Vedete, i genitori sono quelli che oggi hanno la responsabilità vostra e anche quindi di farvi usare nel modo giusto questi mezzi. Ma dai, diciamocelo, no? Ma quanto ne sanno i genitori? Di solito ne sanno poco. Però non è colpa loro. Dopotutto sono nati senza questo mondo e quindi non gliel'ha insegnato nessuno. Ci sono tante cose che sono state insegnate dai nonni, che hanno un grande valore, ma purtroppo, porca miseria, questa cosa non arriva, non è stata tramandata. E allora la scuola? Quanto digitale c'è a scuola dal punto di vista della cultura? Zero, anzi, è un vietiamo tutto. Anche i genitori a volte dicono vietiamo tutto. Allora, se vogliono veramente che voi gli diciate tutto, spieghiate quello che fate, siate trasparenti con loro, loro non devono vietarvi l'uso del digitale. Vi devono aiutare a comprenderlo. E se non sono in grado di aiutarvi a comprenderlo, c'è chi lo fa. Facciamo video dappertutto. Io a Striscia ogni settimana, più di una volta, racconto queste cose, non sempre legate a questi temi. Cioè nel senso, ragazzi, privacy e sicurezza. Però spesso nei miei social non vendo nulla. Ogni giorno però magari vi metto a disposizione qualcuna di queste cose. Grazie.